Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Ecco qui un nuovo video con i nostri amici della Playmobil. Buongiorno bambini, buongiorno maestra. Oggi se vi ricordate andiamo tutti dal dentista, andiamo nello studio qui vicino, quindi andiamo a piedi. Mi raccomando, state in fila due a due e fate attenzione quando attraverseremo le strisce pedonali ed il semaforo. Mi raccomando, fate attenzione ragazzi. Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti. Io sono il vostro dottore, il dentista. Ecco qui, buongiorno dottore. E oggi vi farò vedere qualche informazione per quanto riguarda appunto il mio lavoro. Chissà di voi quante volte bisogna lavare i denti il giorno? Chi sei tu? Io sono Chrissi, ecco Chrissi, quindi? Eh sì, bisogna lavarle due volte al giorno almeno. Brava Chrissi. E ora mi serve un volontario. Tu, con la maglietta rossa. Io? Io sono Lena. Oh, e che mi succede ora? Mi rimuoverai i denti? No, tranquilla. Facciamo solo vedere ai tuoi amici come si lavano per bene i denti. Venite tutto più vicino. E apri la bocca, Lena. Ecco qua. Oh, ma che bei denti che hai. Perfetti. Lavi tutti i giorni i tuoi denti? Sì, certo. Brava. E spero che anche i tuoi amici lo facciano. Ed ecco qua ragazzi. Guardate un po'. I denti sono divisi in tre categorie. Quali centrali, quali laterali e poi quelli in fondo. E naturalmente tutti vanno lavati per bene. Si parte lavandoli in cerchio, dalle gengive in mezzo. E così via per tutti i denti. Ed ecco qua ragazzi. Ed in chiusura per tutti voi ci sarà del filo interdentale. Oh, che noia. E sì, e poi ci sarà anche delle cicche. E naturalmente dei foglietti per spiegarvi come lavare per bene i denti. Grazie dottore, un bel applauso per tutti.